Ciao a tutti e bentornati da Lago di Alice che oggi è Supergirl. Siamo tornate per aprire un pacco speciale dei Lego, dei Lego Friends. Noi già abbiamo della Lego Vaiana con la sua barchetta, l'isoletta con Pua e poi per il compleanno Ludovica e Leonardo alla Alice hanno regalato il set di Poppy, dei Trolls, che è molto molto carino. Allora, apriamo? Ok, vai, oggi apri Alice. Forza. Aspetta, aspetta. Oh, ecco, si è piena da lui. Aspetta, eh. Eh, lo so, perché qui, vedi, la fanno facile, dici spingi e apri, ecco. Vediamo un po' le istruzioni, i pacchettini. Noi abbiamo preso questo set, il set con Olivia, è vero? Vedi, c'è Olivia, Olivia giardiniera e qua ci sono gli stickers. Sì, con tutti. Ok, adesso apriamo, montiamo e acceleriamo. Grazie a tutti. 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 Quindi non so se si vede. Il suo aiutante robot che ha questo cosetto dietro che gli permette di stare in piedi e di camminare. Giusto, vero? Sì. Ok. Poi, il suo motorino con le sue piantine, con la pala e con il rastrello. Eccolo qua. Questi si possono staccare e Olivia li può utilizzare. E poi c'è una mini serra, diciamo. No, una cosa. Una cosa. Con il secchiello con l'acqua che lei può prendere. Aspetta che si è già staccato. Allora, questa si apre e lei qui ha piantato le fragoline. Come in tutti, come in tutti i Lego, ci sono ovviamente i pezzi di ricambio. E' vero? Sì, come Poppy. Come Poppy, sì, è vero. Come Poppy ce l'aveva. E quindi noi adesso ci immergiamo nel fantastico mondo dei Lego con tutti i personaggi che abbiamo. E' caduta Poppy. Eccoli qui. Così ci mettiamo a giocare. E ci vediamo. Al prossimo video. Ciao ciao. Lasciateci tanti like. Sì, ciao ciao.